buongiorno buongiorno oggi siamo di trekking o meglio facciamo quattro spiagge diciamo le più belle di Lanzarote facciamo un trekking lungo le spiagge della costa sud est di Lanzarote quindi partendo da Playa Mujeres Playa del Puzzo Playa della Sera Playa Mujeres Playa del Congrio Playa Puerto Muelas Playa del Puzzo